Il Trust Il Trust Il Trust comunque estero cioè del legittimo che in italia abbia valore un trust stipulato all'estero e diverse sentenze hanno riconosciuto validità giuridica impegni assunti nel trust stipulato all'estero ora la possibilità che ne è discesa è che è possibile stipularlo anche in italia e l'articolo 2645 ter ci fa capire che si può utilizzare anche il diritto interno per creare o strutturare un trust la prima domanda che ci dobbiamo porre è se la nascita di un trust crea un soggetto autonomo a sé stante una sentenza della castrazione molto recente del 27 gennaio 2017 ha stancito che il trust è soltanto un rapporto giuridico una fattispecie giuridica non ha la dignità di soggettività il caso riguardava dei beni conferiti dal settlor al trustee su cui un creditore del settlor aveva promosso dei pignoramenti ma questi pignoramenti questo pignoramento l'aveva promosso non nella persona del trustee del beneficiare e tutelare dei beni bensì nella persona del trust inteso come soggetto giuridico e la giurisprudenza di merito fino alla castrazione hanno tutto confermato che non esiste un soggetto giuridico chiamato trust su cui seguire il pignoramento il pignoramento in questo caso è inesistente perché è inesistente del soggetto il pignoramento andava correttamente svolto nei confronti del fiduciario del trustee e quindi è stato rigettato è stato dichiarato invalido il pignoramento altro problema rilevante alla tassazione del trust qui abbiamo una normativa del 2006 dove si stabilisce che nell'ambito della tassa di donazione una delle fattispecie su cui applicare l'imposta è quella dei vincoli di destinazione quindi di per sé un vincolo di destinazione sarebbe soggetto alla tassa per le donazioni se non che il problema è anche quello della diversa soggettività tra il soggetto vincolante e il soggetto che riceve il vincolo il problema quindi teoricamente è che il trust fatto nei confronti di un beneficiario ben determinato è soggetto alla tassa di donazione nei confronti di questo soggetto finale nei rapporti tra di parentela che vanno tra il disponente e il soggetto beneficiario finale quando invece il beneficiario non è individuato viene considerato un atto traslativo nei rapporti che vi sono tra il soggetto disponente e il trustee tuttavia le fattispecie del trust sono diverse è possibile anche il trust autodichiarato cioè quello in cui il trustee è il medesimo disponente in questo caso non vi è un vero e proprio trasferimento immobiliare ecco in questo caso abbiamo avuto questa sentenza della cassazione del 26 ottobre 2016 che a posto termina una controversia abbastanza difficile da da sbrogliare ed era quella appunto di un trust autodichiarato della relativa tassazione tutti gli uffici delle imposte applicando questa normativa sulla tassazione comunque dei vincoli come donazione dei vincoli di destinazione come donazione aveva ritenuto di applicare la tassa percentuale la tassa percentuale su un valore molto alto perché qui stiamo parlando di milioni di euro era elevatissima la cassazione ha ritenuto invece che laddove il trustee autodichiarato e laddove il trustee è lo stesso disponente non vi è un trasferimento immobiliare il vincolo crea soltanto uno stato di segregazione patrimoniale cioè i beni messi in trust non seguono le sorti dei debiti dei beni rimasti in capo al disponente viceversa i debiti che assumessero i beni in trust non vanno a colpire il restante patrimonio del disponente creando due patrimoni separati ma in capo lo stesso soggetto la mancanza di due soggetti diversi secondo la tassazione non crea una tassazione autonoma per cui questi beni rimangono nella medesima sfera patrimoniale il solo vincolo di segregazione non è motivo di tassarli e quindi la cassazione si è imposta e ha stabilito che in questi casi la tassa è fissa viceversa il problema sorge laddove il vincolo invece viene effettuato pur riservando la proprietà in capo al disponente a favore di una segregazione dai creditori per un beneficiario diverso e finale in questi casi laddove il trustee non è il disponente medesimo ma un soggetto che riceve la fiducia al fiduciario la tassazione invece sembrerebbe ancora quella percentuale penso di avervi trattato di un bell'argomento un argomento nuovo recente di cui tutti parlano e di cui poco sanno il trust bene qui finisce la mia rubrica il notaio consiglia vi saluto caramente il notaio rossi di porto sant'elpidio il vostro sarto dell'atto notarile buonasera a tutti